Io ho una famiglia con due bambini e quindi principalmente l'estate sai sono limitate per chi ha famiglia con due bambini però diciamo che adesso con la questione del Green Pass io mi sento più sicuro. Mi sembra una bella estate insomma. È partito, ha viaggiato, è rimasto locale. Ho già fatto le ferie, sono stato al mare perciò adesso sono rientrato e vedo che si sta bene qui. Per me è tutto bene, tutto benissimo, ho avuto una bella estate, siamo stati un po' chiusi con alcune cose però insomma tutto sommato bene. Dove è andata di bello? Sono andata al mare. Dove? A Jesolo. Quindi è rimasta locale? Sì, Veneto, qui da noi e quindi benissimo. C'è stata una limitazione un po' generale della libertà per quanto riguarda il Covid, no? Quindi anche se poi c'è stata un'apertura, però diciamo che c'è un lato positivo perché si sta più in famiglia, si riscopre anche dei vecchi hobby, la lettura. Abbiamo fatto sì le vacanze, anche se brevi, ma comunque sì, è stato abbastanza normale come gli altri anni. Le restrizioni e troppe leggi, siamo vincolati alla fine, siamo schiavi ecco. Un po' di attenzione in giro, bisogna abituarsi. Ma ha viaggiato e rimasto locale? Ha viaggiato. Dove è andato di bello? Sono andato a Lampedusa, sono stato in Sardegna e sono andato in Alto Adige. A me è un pochino viaggiare all'estero, però per il resto insomma ho anche tanto lavorato, per cui i viaggi comunque non sono mancati. Sono state in Italia e in Europa dove si poteva, quindi sì, siamo riusciti a muoverci lo stesso insomma.